Primo consiglio comunale a Bitonto per Pino Majorano, fresco di surroga dopo le dimissioni di Paolo Intini che hanno liberato un posto nei banchi dell'opposizione. L'occasione è stata utile ai suoi colleghi di schieramento per lanciare un appello a restituire centralità al ruolo del consigliere comunale anche a fronte delle motivazioni alla base della scelta di Intini che avrebbe lasciato perché le sue proposte e le sue domande sarebbero state ignorate dall'amministrazione comunale. Non potete ridurre il consiglio comunale nel luogo in cui venire a ratificare scelte già stabilite altrove, ha detto Gaetano De Palma del Partito Democratico. Oltre al sindaco ci sono altri 24 consiglieri che vorrebbero contribuire alle scelte di questa città. Dello stesso avviso anche il collega di partito Franco Natilla che ha parlato di un vero e proprio sistema abaticchio che attraverso un'attività di stalking cercherebbe di ridurre al silenzio tutte le voci dissonanti del consiglio comunale sia che se arrivino dalla maggioranza sia che arrivino dall'opposizione. Per la maggioranza invece assente il sindaco impegnato a Roma per la città metropolitana sarebbero i consiglieri d'opposizione a non aver collaborato alla nascita dei provvedimenti avendo preferito trincerarsi dietro la sterile polemica politica. Durante la seduta si è affrontato anche il tema della conca barese di cui il sindaco abaticchio è presidente sollecitato dal consigliere di forza italia domenico damascelli che ne ha chiesto chiarezza sull'attività. Un assist per Natilla che ha ribadito la volontà di avere un riscontro a una sua vecchia interrogazione in cui chiedeva delucidazioni su alcune nomine in particolare dei revisori dei conti nella stessa conca. Natilla ha poi denunciato anche la circostanza che la conca avrebbe affidato servizi ad una società in cui abaticchio risulterebbe socio al 45% la ABS Consulting che in passato avrebbe inoltre collaborato con il comune di Bitonto anche attraverso una lunga serie di proroghe un passaggio che avrà di sicuro strascichi. A concludere la seduta l'intervento di saluto di Pino Majorano che ha promesso di condurre la sua attività istituzionale nel solco già tracciato da Paolo Intini. Parliamo di problematiche che riguardano tutti i cittadini assolutamente tutti. Se qualcosa avviene per il bene comune avviene sia per quelli di maggioranza che per quelli di opposizione. Proseguire il cammino del consigliere Paolo Intini, lui ha tracciato tanto. A me adesso sta il compito di tornare sulle orme del mio predecessore e studiarmi seriamente tutti i passaggi, non che non l'avessi fatto finora, ma è chiaro che da cittadino uno magari affronta le problematiche in una maniera più leggera. Adesso questo non mi sarà più concesso.